Io imparo a vedere. Questo verso del poeta Rilke esprime bene il focus e la mission del liceo Tirinnanzi. Nel corso del quinquennio liceale i nostri studenti sono guidati a vedere, cioè a scoprire la realtà che ci circonda, attraverso la molteplicità e la specificità delle discipline che compongono il curriculum di studi. Osservazione, ragionamento come disposizione a porsi domande e a dare risposte adeguate e motivate e criticità costituiscono i pilastri del percorso che quotidianamente i docenti propongono agli studenti nel loro lavoro. Nel primo biegno le discipline concorrono a sollecitare la curiosità dei ragazzi nei confronti della realtà tutta, sia essa un esperimento scientifico o un problema matematico, una conversazione in inglese, un'opera d'arte o un testo letterario. Partendo dall'osservazione si impara a vedere l'oggetto e ad analizzarlo secondo la specificità del punto di vista di quella disciplina. Per arrivare poi nel corso del triennio a conoscere e a comprendere la complessità del reale e le profonde connessioni tra tutti gli aspetti della realtà. Insomma, una grande avventura che vede protagonisti, studenti e docenti e che vi invitiamo a conoscere nelle prossime giornate di Open Day.